Buonasera e benvenuti, dopo spero aver risolto un po' di problemi, con il nuovo appuntamento della nostra serie di incontri con Igor Sibaldi dedicati alla letteratura russa degli ultimi due secoli. Bene, abbiamo avuto dei problemi di audio, quindi proverò a rapidizzare un pochettino il nostro incontro. Si sente l'audio? Sì, funziona, 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 funziona. L'ho sentito io. Allora, abbiamo avuto problemi di audio, dicevo, e adesso riprendiamo la diretta, avendo risolto, spero, le nostre difficoltà. Riassumerò brevemente quello che avevo detto sembrando un pesce dentro un acquario e senza essere ascoltato. Diciamo che noi abbiamo fatto la prima puntata lo scorso 11 novembre intitolando il compleanno di Fyodor Dostoevsky, perché era proprio in quell'occasione il compleanno, la ricorrenza, l'anniversario della nascita del grande scrittore russo. E questa settimana, dopo 15 giorni, entriamo proprio nel merito del nostro argomento e parleremo di Fyodor Dostoevsky insieme con Igor Sibaldi, che finalmente saluto e che adesso sentirete. Vorrei che sentistela la sua voce, visto che chi ci ascolta desiderava poter ascoltare Igor. Buona serata dottore e buona serata a tutti. Bene, allora, diciamo che a me sembra importante, Igor, dividere la nostra conversazione in due parti. La prima parte è dedicata a Dostoevsky come persona. La seconda parte è dedicata invece ai temi, come avevamo stabilito, del romanzo, che credo comunque, come sempre succede con gli scrittori, siano indissolubilmente collegati con Dostoevsky persona, come è ovvio che sia, come è normale che sia in tutti i grandi romanzieri. E, voglio dire, come psichiatra con formazione analitica, non posso non cominciare da Sigmund Freud, che nel 1927 scrive un importante saggio dedicato a Dostoevsky, che si intitola Dostoevsky e il paricidio. Il saggio si divide in due parti. Una parte è dedicata ai contenuti dell'opera. La seconda parte è dedicata proprio a Dostoevsky come persona. E vorrei partire proprio da lì, visto che cominciamo a parlare prima di Dostoevsky e poi dei Caramaggio. Freud approfondisce la complessa personalità di quello che lui ritiene essere il più grande scrittore mai esistito, affermazione precisa, presente nel saggio, e dice però che è un uomo privo di etica, enormemente bisognoso d'amore, egoista, autodistruttivo, con tratti delinquenziali, che traspone nei suoi personaggi. Io le chiedo, Igor, che cosa ne pensa e in realtà chi è per lei Fyodor Dostoevsky? Prego. Qua c'è tutto, spero di fare tutta la trasmissione su questo saggio di Freud. Dunque, Freud ne parla tardi di Dostoevsky, tardi, perché il complesso di Oedipo in realtà l'ha preso da lì. Cioè i fratelli Karamazov, che sono usciti nell'81, 1881, hanno fatto scalpore tanto, tanto. Nei fratelli Karamazov c'è tutto schematizzato, già pronto, a uso di qualsiasi psicologo avventuroso, già pronto lo schema dell'idea del parricidio. È già pronto. A un certo punto, durante il processo, Ivan Karamazov dice ha ucciso suo padre, ma tutti vogliono uccidere il proprio padre. Dice proprio così, 1881, l'ultimo romanzo di Dostoevsky. E questo qui è arrivato in Occidente, dove Dostoevsky era famosissimo, famosissimo, amatissimo, più che in Russia, in realtà, sempre stato più amato in Occidente che in Russia. E Freud sicuramente è rimasto influenzato, perché era un grande lettore Freud. Poi ha tirato fuori Freud il complesso di Edipo. Edipo, col complesso di Edipo, c'entra pochissimo, perché Edipo, nel mito di Edipo, Edipo si ammazza il papà, però come lo ammazza? Lo ammazza con un incontro casuale per strada, per una questione di precedenza, una lite per futili motivi, diremmo oggi, in cui questo qua, col cocchio, vuole farlo fuori. Edipo si difende e lo uccide. Poi salta fuori il problema, che lui sposa la mamma, però l'assassino del padre non è premeditato. È un assassino per futili motivi, per una lite per strada. Lui non sa che è suo padre, Edipo. Invece nei fratelli Karamazov, che sono, ricordiamo, ma per i lettori, sono quattro fratelli che sono coinvolti in un processo in cui si tratta dell'assassino del padre. Bisogna vedere chi è il colpevole. E non si sa, durante tutto il romanzo, chi è il colpevole. Noi non lo diremo, chi è il colpevole, dei quattro fratelli, di cui tre legittimi e uno illegittimo. Alla fine si viene tutto un tratto a scoprire, dopo un vero film tipo quelli americani col progetto. Perry Mason. Sì. Però, chiedo scusa, Igor, io prima di entrare nel merito proprio del romanzo, ne parleremo, ho una serie di domande, io però volevo che lei introducesse ai nostri telespettatori Dostoyevsky come scrittore. Cioè, come si colloca Dostoyevsky in questo secolo meraviglioso di grandi scrittori russi, qual è stata la sua fortuna o la sua non fortuna? Dunque, il Dostoyevsky è una persona fortunata da giovanissimo, parte giovane, la mamma è morta presto, il papà, il Dostoyevsky, viene ucciso dai suoi contadini perché era un nobile di nobiltà recente, era appena stato fatto nobile, era un medico, e un'umiltà recente, aveva la sua proprietà, pare che fosse un po' cattivo quei contadini, il papà di Dostoyevsky. E a un certo punto i contadini gli hanno fatto un'imboscata e l'hanno ammazzato un po' alla russa, uno dei tanti modi di uccidere la russa. L'hanno ammazzato affogandolo a forza di fargli bere acqua. Dostoyevsky era a suoi vent'anni quando si è usato questa cosa, qui prima il perdita della madre, poi tutto un tratto si è ritrovato libero da genitori. Ecco, mi sono accorto che quando una persona si trova ad un tratto libero da genitori, a giudicare anche da diversi esempi della letteratura mondiale, ha un sovrappiù di talento, ha un talento che aumenta. Dostoyevsky ha avuto molta fortuna da giovanissimo, tanta fortuna. gli piaceva Dickens, gli piaceva tantissimo Balzac, aveva tradotto Balzac a Dostoyevsky. Parte col primo romanzo un best seller per i tempi di allora. Col secondo romanzo un po' meno. Però si era già montato la testa, si dà un sacco da fare, già dà prova della sua stranezza di scrittore, un po' troppo diciamo irreale in alcuni aspetti, un po' troppo romantico irreale, e poi gli capita una disgrazia tremenda. Viene accusato di attività sovversive, che non aveva fatto niente, proprio niente. Si vedeva in un circolo di persone che leggevano dei libri francesi, libri francesi, tedeschi, inglesi. Uno di questi ha fatto la spia e c'è stato il suo trauma terribile, proprio tremendo, perché per queste letture qui viene processato con i suoi amici e condannato a morte per fucilazione. Viene condannato a morte e lo portano e l'esecuzione avviene, cioè si comincia l'esecuzione. Una mattina di novembre, di sole, una mattina di sole, che lui guarda le cupole in attesa della fucilazione. Fucilazione pubblica, in una piazza di Pietroburgo. C'ha già i pali pronti, il plotone pronto, mettono i primi condannati al palo e Dostoevsky pensa sono gli ultimi minuti della mia vita e arriva un corriere dello zar. Queste stranezze russe, no? Erano messe in scena. Arriva il corriere, e nessuno lo sapeva, arriva il corriere dello zar e dice i condannati sono graziati. Dostoevsky si becca a quanto pare secondo alcuni un'epilessia tremenda da allora. Cioè diventa un epilettico, ha attacchi epiletici, forse da prima, forse dopo, però tanti fanno risalire la sua epilessia. La condanna viene commutata a dieci anni di lavori forzati, poi commutati in una parte di lavori forzati in una parte di esilio. in fondo alla Siberia bisogna farsela a piedi, perché per un po' il treno ti porta in Siberia. Poi c'è tutta la camminata a piedi, centinaia di chilometri in Siberia, in cui uno si ritrova, questo intellettualino giovane, insomma, uscito da un successo recente, si ritrova con i carcerati più tremendi, con i rivoluzionari più tremendi, a camminare, 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 camminare per giornate, mesi, mesi, fino al posto di detenzione. Si passa i suoi dieci anni e in quei dieci anni in Russia capita di tutto, perché nasce la nuova letteratura russa, i grandi romanzi, fa colpo Turgenev, fa colpissimo Tolstoi, più giovane di Dostoevsky, che imbrocca un successo dopo l'altro e Dostoevsky lo viene a sapere in galera. Si fa i suoi anni di carcere duro, con lavori forzati, poi i suoi anni di esilio facendo soldato, come punizione. Finisce l'esilio, può tornare a casa, può tornare a casa, carichissimo, dice adesso torno io, adesso è, e comincia la sua strana carriera. Dai 40 anni ai 60 anni, circa, lui fa una carriera formidabile, in cui spara una serie di romanzi, uno dopo l'altro, che saranno apprezzati tantissimo nei decenni successivi, in Russia, sì, ha i suoi ammiratori, però non può competere con Tolstoi, non può competere con Dostoevsky, si mette su posizioni di destra, quasi da subito, e rimane una persona, lui, lui, accusato di essere un rivoluzionario, rimane una persona di destra per tutto il tempo. Da questa sua posizione di destra, che gli sfrutta un po' di protettori per fortuna, lui fa romanzi di un di un contenuto rivoluzionario spaventoso, spaventoso. Ricorda un po' come tipo, paragonando due cose incompatibili, Alberto Sordi, Alberto Sordi, democristiano convinto, nei suoi film fa vedere un'Italia che può essere immaginata solamente da una mente feroce, una mente feroce, è acutissima e appassionata nel far vedere i demoni delle persone, i demoni, i demoni delle persone. Ecco, Dostoevsky, di destra, scrive dei romanzi che sono di una libertà etica che non viene capita tanto in Russia, viene amatissima subito in Occidente, amatissima. Per quello che risulta la fortuna di Dostoevsky in Russia, allora, Tolstoi lo ha sempre disprezzato, lo ha sempre disprezzato, non si sono mai incontrati. Una volta sola potevano incontrarsi, potevano incontrarsi, erano a un concerto di beneficenza tutti e due, già abbastanza avanti con gli anni, e Tolstoi naturalmente era col suo giro di nobili, Tolstoi era ricco. Dostoevsky ammirava Tolstoi, l'aveva scritto diverse volte Tolstoi, si avvicina a Tolstoi per parlare, no? Lui sa, in qualche modo, Dostoevsky, che loro due saranno i due geni dell'Ottocento in Russia, in tutto il mondo. Tolstoi si volta verso di lui, Tolstoi alto, Dostoevsky bassino, 1,70, Tolstoi 1,80, con la barba lunga, bello, maestoso, no? Si volta verso Dostoevsky che si avvicina con la sua aria cordiale, è sempre stato un uomo molto cordiale, Dostoevsky, molto affettuoso, si volta, vede Dostoevsky, lo snobba e gli dà le spalle. Dostoevsky, che avrebbe voluto parlare, rimane talmente colpito che esce e se ne va, non si sono mai incontrati. Ma, quando Dostoevsky muore nel 1281, Tolstoi comincia a ricredersi. Quando Tolstoi muore, e parleremo come una morte stranissima, sul suo letto, sul comodino, ai fratelli Karamazov, non l'aveva dimenticato a casa, era scappato di casa a Tolstoi con umore, gli dice portatemi il libro dei fratelli Karamazov, come ho fatto a non capire Dostoevsky, come ho fatto a non capirlo. Ecco, Dostoevsky è una di quelle persone che hanno grande fortuna dopo. È a una fine in Italia dal punto di vista letterario che è Collodi. Collodi durante la sua vita non ha esaurito la prima edizione di Pinocchio, ha pubblicato 7000 copie della prima edizione, sono rimaste in vendita, in una parte, sono rimaste in vendita. Nel necrologio di Collodi non è nominato Pinocchio, perché dice non parliamone, è stato un suo insuccesso, peccato, ha una carriera di favolista così bravo, traduttore, eccetera, e poi niente, poi vent'anni dopo la morte di Collodi Pinocchio era il libro italiano più tradotto in tutto il mondo e tutti sanno chi è Pinocchio, non lo studiano a scuola purtroppo ma è un capolavoro. Ecco, Dostoevsky è un po' così, ha una sua maledizione che lo porta e lo tiene e lui combatte eroicamente per tutta la vita questa maledizione sapendo di portare un'altra figura che potrebbe assomigliare a Dostoevsky più tragica però è Van Gogh. Ecco, c'è in Dostoevsky e in Van Gogh la stessa consapevolezza di aver trovato un linguaggio nuovo e l'indifferenza di fondo eroica per il fatto che questo linguaggio non viene capito. La differenza è che Van Gogh ha venduto un quadro in vita sua, uno solo. Dostoevsky un po' ha venduto, un po' ha venduto ma Paco ecco Igor intanto voglio dire io per fare le domande riguardo a un libro che ha avuto un grande successo effettivamente forse più all'estero che in Russia e come dire sicuramente negli anni successivi che sono i caramagli di cui parleremo mi sono fatto aiutare da un libro che potete vedere che si intitola Dieci obiezioni ai comandamenti che ha scritto Igor Sibaldi e tra l'altro segnalo che i disegni di copertina sono i suoi e che mi è servito perché parla effettivamente di autori russi che lui ben conosce in quanto in una delle sue vite precedenti come ci ha raccontato la scorsa volta ha fatto il traduttore e il curatore di libri di letteratura russa quindi diciamo che ne parla con cognizione di causa. Bene in questo libro lui parla ovviamente anche di Karamazov e io mi sono un po' fatto aiutare dalle sue osservazioni per preparare le domande che vorrei proporre. La prima domanda riguarda come dire anche Freud lo dice nel suo testo Dostoyevsky e il parricidio il tema del romanzo è fondamentalmente come ha detto prima il parricidio e come dire c'è una frase importante del romanzo che dice chi è che non desidera la morte del proprio padre? Ivan Karamazov si chiede Ivan Karamazov e partiamo quindi da qui cioè sul tema edifico in senso freudiano del termine voglio dire del romanzo ecco qual è il senso di questa frase di Ivan Karamazov questa è la prima domanda in quanto più che parlare della trama noi parleremo diciamo dei sentimenti e dei valori in positivo negativo che il romanzo come dire mostra perché è questo lo scopo dei nostri incontri proprio perché attraverso il romanzo come dire ben sappiamo i grandi scrittori rappresentano la vita e quindi sono importanti anche per chi come me si occupa di salute mentale e per i quelli che ci seguono e per i lettori stessi leggere un romanzo che si occupa della vita bene dentro la vita c'è il tema dell'uccisione del papà vogliamo un attimo inquadrarla questa tematica secondo Dostoevsky sì il primo grosso romanzo di Dostoevsky è Delitto e Castigo dove si ammazza la mamma certo che è una sordida usuraia una vecchietta che cioè quella che dà i soldi dà i soldi che uno dei suoi clienti Raskolnikov ammazza con la scura ammazza con la scura quindi non è che non la velena le spacca la testa con la scura e il rapporto tra l'usuraia potrebbe essere mamma figlio lì è ancora scatenato il giovane insomma il quarantena Dostoevsky è ancora scatenato nei fratelli Karamazzo si ammazza il papà e viene ucciso il papà il papà che è un sordido essere perverso lubrico proprio tremendo e viene ucciso viene trovato ucciso anche lui con un modo molto violento con un pestello il libro esce è stato scritto in un paio d'anni Dostoevsky era molto veloce nella scrittura era terribilmente veloce disgraziatamente veloce a leggere in russo Dostoevsky è scorretto come scrittore cioè è sciatto è potentissimo ma dal punto di vista dello stile insomma uno dice beh questa qui non è una ultima stesura questa qui è una seconda stesura una terza stesura doveva rivederlo ecco lui si faceva portare cambiando anche il progetto iniziale esce nel 1880 lui muore poco dopo nel 1881 lo zar Alessandro II lo zar liberatore lo zar amato da tutti viene assassinato zar in russo viene chiamato zar naturalmente però per la gente si chiama batiuska che vuol dire piccolo padre dunque e uno vede i fratelli Karamazov che escono nell'80 e nell'81 viene assassinato il padre della Russia dice beh sarà una coincidenza evidentemente Dostoevsky che era un divoratore di quotidiani secondo lui la letteratura più fantastica che ci poteva essere la letteratura cioè il romanzo di fantascienza più interessante era il quotidiano lui se li sciroppava tutti le mattine diceva qui dentro c'è Shakespeare qui dentro c'è il romanzo di fantasie qui c'è qui c'è quello che si chiama in russo il fantasticisco cioè il prodotto dell'immaginazione sfrenata fantasticisco facile pronunciare ecco lui evidentemente aveva percepito che è la Russia che sembrava così solida una cattedrale non ancora millenaria ma insomma quasi la Russia sta cominciando a scretolarsi e il principio d'autorità incarnabile nel padre oppure nello zar stava cominciando a vacillare avesse vacillato solo nel 1881 viene ucciso Alessandro II con le bombe nel 1918 nel 1918 viene nel 1917 viene deposto Nicola I non c'è Nicola II l'ultimo zar della Russia e anche anche discendente di Alessandro II naturalmente e un po' di tempo dopo lui e tutta la sua famiglia vengono fucilati lo zar la zarina i figli le figlie i domestici e anche il medico vengono tutti fucilati in una cantina cioè questa idea qua che si sente colossale non solo dell'uccisione ma dello sterminio del principio d'autorità nessuno nel 1880 la vedeva Dostoevsky a questo punto a quanto pare l'ha colta la frase di Ivan Karamazov ognuno desidera la morte del proprio padre di di lato sta aprendo la porta a Freud da un altro lato ognuno desidera la fine del principio d'autorità qui è Iago con Otello dice Otello comanda io lo odio io lo odio qui c'è Shakespeare che è l'autore favorito di Dostoevsky evidentemente Dostoevsky l'ha sentita sta roba Dostoevsky sentiva da matti da matti c'è un fatto per esempio dei demoni scritto nel 1873 c'è un personaggio che è un letterato di campagna che a un certo punto non ne può più di stare a casa sua dove tutto va bene dove tutto è comodo dove tutto è ricco allora dice voglio andare verso il popolo e scappa senza dire niente a nessuno la persona con cui vive la persona con cui vive si avvia con gli stivaloni verso il popolo per poter sentire il popolo com'è si fa la sua camminata poi gli danno un passaggio si muove prende un'influenza l'influenza diventa una polmonite arriva a un traghetto lì non si può non essere più a muoversi arriva trafelata la moglie di questo nel romanzo arriva trafelata la moglie di questo qui e lo trova che sta morendo e le ultime parole sono addio addio e muore nella casa di questo traghettatore 1873 Tolstoi non l'ha letto i demoni non gli piaceva Tolstoi in quel momento nel 1910 Tolstoi che abitava in campagna non sente che non può più stare in casa sua allora senza dire niente a nessuno delle persone che abitano con lui scappa di casa una mattina prende un treno in terza classe fa qualche giro gira di qua gira di là dopo qualche giorno gli viene un'influenza poi un'influenza diventa una polmonite lo portano giù dal treno che sta male febbre altissima lo ricovero nella casa del ferroviere nel capostazione una stazioncina neanche tanto distante a casa sua arriva la moglie proprio come le romanzi di Tolstoi arriva la moglie e Tolstoi muore nella casa di questo dicendo mi portate i fratelli Karamazov ecco Dostoevsky come se avesse visto la morte di Tolstoi con 40 anni di anticipo 40 anni di anticipo e con un anno di anticipo la morte di Alessandro II ha sentito e c'è questa cosa che ci vorrebbe veramente una psichiatria molto avventurosa per classificare le precognizioni di Dostoevsky perché sono molto forti molto forti poi di precognizioni ne ha tante Igor volevo a proposito di precognizioni di Dostoevsky mi aveva fatto venire in mente questa domanda c'è un punto interessante diciamo dell'intuizione pre psicoanalitica di Dostoevsky che è il concetto che il senso di colpa inconscio porta a commettere crimini non solo il paricidio ma ogni tipo per punirsi o ammalarsi ma è la colpa che precede il delitto e non viceversa altro che questo è il concetto che c'è in Dostoevsky la colpa precede il delitto si si questa l'ha vista già in galera questi qua si sentono si sono finiti qui in galera i lavori forzati perché in Russia tra l'altro ai tempi di Dostoevsky non c'era la condanna a morte per cui quando l'ha condannato a morte è stato uno scandalo di per lì perché come condanna a morte Nicola II non ha mai condannato Nicola I che è lo zardi non ha neanche condannato nessuno mai a morte mai per omicidio si prendevano i lavori forzati non c'era l'impiccagione l'incidazione niente del genere e lui per cui nel campo di nel campo di lavoro il Lager lui li ha conosciuti tutti li ha visti tutti ha avuto se fosse stato uno psicologo uno psichiatra avrebbe avuto un materiale di vastissima proporzione perché ha visto questi criminali russi che sono al limite dell'Asia centrale al limite dell'alfabetizzazione selvaggi puri che lui amava tantissimo tra l'altro e dice guardando questi lui ce l'ha per primo questa intuizione che non è il delitto che produce la colpa è la colpa che produce il delitto poi il fatto che abbia strutturato tre dei suoi romanzi come gialli è un'altra precognizione non è stato il primo a scrivere gialli il primo è stato Edgar Allan Poe prima di lui anni 40 però i gialli cioè tutti gli autori di gialli del mondo cioè davanti a questi rieschi si tolgono il cappello dicendo papà o nonno perché abbiamo imparato da lui il processo in scena ha inventato lui quello che si vedeva nei film americani il processo in scena i fratelli Karamazov è un processo il diritto di castigo è un'istruttoria con il giudice Megre con il giudice Profili Petrovic giudice istruttore che fa l'interrogatorio e uno legge il diritto di castigo e non riesce a smettere sono le due tre di notte però dice no aspetta andiamo avanti sono 700 pagine questa notte magari arrivo anche a 100 perché non riesce a smettere perché è proprio la suspense cose che nell'ottocento all'inizio della seconda dell'ottocento nessuno capiva lì si era abituati a Turgenev si era abituati a Pushkin a Gogol già a Tolstoi in cui c'era tutto un altro sistema poi un'altra cosa di Dostoevsky la sensualità di Dostoevsky tanti erano sensuali a quel tempo gli scrittori ce ne erano di audaci ma sempre con un certo riguardo cioè per esempio il punto più audace di Tolstoi è quando nel racconto Il diavolo Il diavolo c'è il protagonista che si innamora perdutamente di una contadina alla fine c'è il convegno di questi due si trovano entrano in un posto e il punto più audace è che dice 15 minuti dopo lui uscì da questo noi sappiamo la durata di un atto sessuale nella seconda metà dell'Ottocento in Russia 15 minuti dopo lui uscì da noi c'era Manzoni la sensualità di Manzoni è nella monaca di Monza dice che si conclude la sventurata rispose punto a capo basta nuovo capitolo poi c'è Flaubert Flaubert di Madame Bovary che dice ed ella si abbandonò punto poi tensissimo nelle però per accenni Flaubert è estremamente sexy ma è per accenni per esempio descrive Madame Bovary che sta davanti alla alla fiamma del camino e sente caldo e appoggia il piede vicino al fuoco e sente caldo sulla gamba e chi vuol capire capisce che tipo è Madame Bovary poi c'è Dumas che era un super Casanova compulsivo seriale che arriva nel discontro di Bragelon dice ed ella lo trascinò tra il cespuglio tra i cespugli ecco era questa la sensualità del tema leggendo Dostoevsky si ha una galleria sexy tremenda si passa dalla prostituta che racconta tanto di sé del delitto e castigo alla super prostituta del memoria del sottosuolo una parte del memoria del sottosuolo si svolge in un bordello dopo rapporto sessuale le discussioni tra il cliente e la prostituta no? che uno leggeva a quel tempo dice ma è reale cioè sono seduto su questa sedia sto leggendo questo libro o mi sto immaginando non è possibile dire queste cose poi ci sono bambine violentate il tema della bambina violentata che in Dostoevsky torna diverse volte diverse volte e che che Nabokov sfrutterà tantissimo è di Dostoevsky c'è l'omosessualità in Dostoevsky Urka nell'idiota ci sono naturalmente non poteva sull'omosessualità erano estremamente rigorosi i censori russi però lui arriva a certi alcuni decimi di millimetro dal confine dell'ecito nel rapporto tra due protagonisti e poi c'è tutta una serie di immagini in cui si vede che Dostoevsky sta prevedendo prevedendo uno sviluppo della terratura che a quel tempo non era prevedibile neanche lontanamente quando Moravia dice che il mio scrittore preferisce c'ha ragione c'ha ragione perché ha aperto questa prospettiva qui sia dal punto di vista della sessualità ecco l'unica cosa che manca che Dostoevsky è come come fanno la pipì questo che è un tabù pipì e pupù nella letteratura dell'ottocento non c'è traccia bisogna aspettare Joyce per sapere che uno fa pipì e intanto molla una scorreggina non è il suo tempo questo è l'ulisse di Joyce però questo non c'è cosa per tutto il resto Dostoevsky è rompighiaccio un rompighiaccio artico che spacca i ghiacciai ecco Igor a proposito di rompere il ghiaccio io volevo rompere il ghiaccio per i nostri ascoltatori riguardo al tema di cui adesso non ho ancora parlato perché ha parlato della paternità dei padri però ci sono anche i figli nel senso che in Caramaggio ci sono i quattro fratelli Caramaggio tre più uno anzi per essere più precisi con i loro rapporti intricati no ecco che cosa cosa significa per Dostoevsky la figlianza la figlità l'essere figlio i protonesi e i protonesi e i Dostoevsky sono tutti figli dal primo all'ultimo tutti figli i padri sono in secondo piano le madri quasi assenti sono figli sono figli che non ne possono più c'è un racconto di Dostoevsky che lui ha lasciato incompiuto prima di essere arrestato che si chiama Agneto Ckanezvanova che è il nome di una bambina anche lì c'è il padre rapporto della bambina intelligentissima verso il padre quasi stupido e c'è questa sensazione che anche questa insopportabile nell'ottocento insopportabile che era la generazione precedente in tutti i romanzi di Dostoevsky cioè non solo nei fratelli Caramazzo in tutti in tutti i romanzi cioè i genitori non capiscono niente sono rimasti indietro non hanno capito cosa è cambiato nel mondo questo c'è ancora adesso è chiaro nella nostra epoca proprio oggi oggi per avere informazioni una persona di una certa età tipo la nostra deve chiedere a nipoti e figli perché non può non può sperare di insegnare qualcosa adesso a figli o a nipoti perché noi non sappiamo tutta una serie di conoscenze abbiamo una serie di abilità ecco questo noi possiamo cominciare a capirlo anche se con qualche difficoltà ancora nella maggioranza della popolazione nell'ottocento era escluso era escluso Dostoevsky è il contrario da questo punto di vista di Tolstoi in Tolstoi il padre il genitore ha sempre il potere e il figlio obbedisce al genitore e riceve benefici nel genitore e lo stima lo stima e si si inchina davanti alla generazione precedente contemporanei erano proprio otto anni di distanza uno dall'altro Tostoi più giovane in Dostoevsky i figli se ne fregano dei genitori perché hanno detto guarda che il mondo è cambiato il mondo sta andando più veloce di noi più veloce di noi e sta aprendo delle prospettive che voi generazione precedente non potete capire a questo punto il parricidio diventa anche logico che arrivi alla fine della vita il parricidio dice io tolgo di mezzo quella parte di passato che mi impedisce di guardarmi intorno nel mio presente non nel mio futuro nel mio presente faccio fuori il passato papà è il passato papà è la Russia vecchia quella che c'era 30 anni fa adesso dico la Russia non c'è rimasto più niente più niente è rimasto solo che questa cosa qui Dostoevsky la comincia già molto prima del cambiamento cioè questo essere fuori tempo la sua caratteristica van Goghiana tu pensa la pittura come era i tempi di Van Gogh è Van Gogh no? con Van Gogh che dice ma io sono marziano non sono arrivato chi da un altro ecco un po' pazzo oppure non so Rimbaud ecco o Baudelaire tutti questi tipi qua Dostoevsky è in questa categoria qui solo che in Europa erano svelti a Gogh è morto presto poveraccio stupido si è suicidato si resisteva 5 o 6 anni diventava diventare ricco perché in Europa erano in faccia di freddo i russi erano lenti erano lenti poi lo si è scoperto ma sempre con un certo con un certo imbarazzo che dice sì questo qui le dice troppo bene le cose troppo bene le dice poi butta giù tutto cioè tutto quello che abbiamo noi di sicuro legge il romanzo di Dostoevsky non rimane su niente lui è religiosissimo Dostoevsky no? quando parla si capisce che è uno di destra legato alla chiesa eccetera nei suoi romanzi della religione esce fuori distrutta ma proprio a pezzi non ci rimane più niente della religione Igor mi fa introdurre la domanda che volevo farle è stato bravissimo ad anticiparmela in parte che è il tema del grande inquisitore cioè all'interno del lo dico per chi non lo sapesse all'interno dei caramazo vi è un romanzo nel romanzo si potrebbe definire tale che è il grande inquisitore che è un come dire un racconto che Ivan scrive e che presenta e c'è come dire anche il tema ovviamente del fratello che vuole farsi prete cioè voglio dire Agliossa ecco io credo che sarebbe interessante facendo riferimento al grande inquisitore parlare un poco della religiosità di Dostoevsky dunque Dostoevsky ha due figure di preti di religiosi famose uno è Zossima no? il prete santo eccetera e l'altro è il grande inquisitore eh Zossima è il santo certo c'è proprio il monaco c'è nel monachesimo russo c'è la figura che si chiama dello starez lo starez è quello investito vuol dire il vecchio è quello investito da di qualche dote particolare lui sa conosce sa sprofondarsi nella mente nella mente degli altri questo qui c'è anche nell'ebraismo una figura simile lo starez è venerato già da vivo può fare miracoli nel romanzo lo starez Zossima muore si aspettano dopo una lunga malattia si aspettano che venga fuori qualcosa di miracoloso che capitino dei prodigi e poco dopo la morte Zossima puzza ma troppo presto c'è manda cattivo odore tutti sono un po' perplessi ma come un sant'uomo così è morto da poche ore e puzza già allora sono un po' perplessi nel frattempo in un'altra parte del romanzo c'è il gran inquisitore il gran inquisitore è un cardinale un bescovo cosa fa di mestiere brucia le persone brucia le persone e a un certo punto nel genere del gran inquisitore tra l'altro tu giustamente hai detto Ivan racconta il suo racconto nel romanzo io sto pensando mentre tu parlavi stavo pensando a un redattore di casa editrice attuale se gli capitasse Dostoievski che dice ho fatto questo romanzo qui ecco il redattore non glielo passa dice no guardi questa conversazione in cui parla il grande inquisitore lei la fa durare decine e decine di paesi questi qui hanno parlato lei dice che hanno parlato per due ore questi qui hanno parlato per dodici ore bisogna rivederli un po' vabbè Dostoievski è il surreale sul tempo allora lui racconta di questo grande inquisitore che è bruci e che nelle vie di questa città spagnola a un certo punto arriva Gesù Gesù che fa proprio Gesù è ritornato Gesù che fa i miracoli che fa i discorsi il grande inquisitore lo vede lo fa restare subito poi lo ingalera lo va a trovare di notte e dice ho capito che sei Gesù che sei tornato io sono cardinale sono vescovo ecco ho capito che sei Gesù che sei tornato e domani io ti brucio domani ti brucio come erettico ma prima vorrei parlare un po' e spiegarti perché ti brucio come erettico io ti brucio come erettico perché tu hai sbagliato tutto caro mio Gesù tu hai parlato alla gente come pensando che la gente fosse intelligente ma la gente è scema tu hai pensato che la gente fosse libera tu dici la verità vi farà diventare libera ma nessuno vuole essere libero fesso non si fa così con la gente noi sappiamo come si fa con la gente lui sa come si fa con la gente e quando il grande inquisitore parla di lui parla del diavolo e dice è il diavolo che va ascoltato perché quello ha capito che la gente vuole essere schiava la gente vuole essere schiava e noi diamo retta a lui noi cardinali diamo retta a lui non a te a te domani ti brucio ecco questi due aspetti il monaco santo che viene dissolto dalla natura anzitempo e il cardinale in carriera che vuole bruciare Gesù naturalmente uno dice che secolo è sarà 2200 dopo Cristo sarà 2000 no è 1880 riuscire a mettersi nella frequenza d'onda nella lunghezza d'onda di Dostoevsky è un'avventura che va bene da adolescenti perché l'adolescente è ancora libero no verso i 16 anni il miglior romanzo da leggere l'idiota sicuramente e piace tanto in quel periodo se un disgraziato di quarantenne di cinquantenne legge Dostoevsky va in crisi perché dice ho sbagliato tutto se queste cose qui sono cose scritte più di cent'anni fa e io non ho io ho vissuto come se non le avessi lette non le ho lette ho vissuto come se non fossero state scritte io ho sbagliato tutta la vita perché c'è una libertà in queste cose che io non ho provato quanti anni mi mancano da vivere ancora ne ho 40 se tanto mi dà tanto ne ne mancheranno 70 porca miseria i primi 40 li ho sprecati ecco perché sbilancia tanto Nietzsche era entusiasta di Dostoevsky Nietzsche era entusiasta perché era proprio questo diceva da questo ho imparato le cose da questo e dal suo amico Tolstoi questi qui vanno imparati ma hanno essiato un sacco di cose ma non ci sono filosofi che vanno essiato così tanto e aveva ragione Nietzsche anche se quando l'ha scritto era già un po' fuori di testa però dice ho imparato da loro più che da chiunque altro ecco e che cosa a raccontare le realtà ecco e che cosa il diavolo invece vuole insegnare ad Ivan nei suoi dialoghi perché c'è anche il diavolo nei fratelli Caramazzo è vero altra altra precognizione di Dostoevsky a un certo punto nei fratelli Caramazzo Dostoevsky porta in scena il diavolo c'è Ivan che ha una meningina sta male di testa ha una febbre cerebrale come dice lui quindi a un certo punto vede il diavolo il diavolo non è il diavolo di Fausto non è in costume ha i pantaloni a quadrettini ha il gilet e grassottello e parla tranquillamente il capitolo in cui c'è il diavolo dice fa sempre piacere parlare con un uomo intelligente si titolano e il diavolo parla dice sì sì sono d'accordo dice con quelli che dicono che io potrei anche cambiare idea ma io sarei disposto a cambiare idea sono questi angeli che cantano e io penso mi piacerebbe a un certo punto anche a me convertirmi e tornare a cantare con quei cretinetti dei miei colleghi angeli però è così volgare è così ovvio ci vuole un punto di vista critico nel mondo e quello sono io dice ci vuole una critica qualcuno qualcuno che veda l'altro lato delle cose ecco da questo non rimane niente di quel cristianesimo che Dostoevsky vuole difendere come teorico dai suoi romanzi non rimane su niente poi Dostoevsky ha una sua religione ha una sua religione che mette nei suoi libri ed è la religione bella bella dell'abolizione dell'io ne parla nel memoria del sottosuolo poi ne parla in altri testi qui dice quello che rompe le scatole nella vita di tutti è l'io io dice odio la famiglia non ne posso più della famiglia perché è la famiglia lo dice nei diari e la famiglia è chiudersi intorno all'io cioè una serie di barriere intorno all'io ma è l'io che rovina tutto se una persona si liberasse dal suo io allora sì sarebbe meraviglioso il mondo se una persona smettesse di pensare ai propri interessi d'altra parte dice lo dice il Vangelo ama gli altri come te stesso non amare te stesso più degli altri metti il tuo te stesso in tutti gli altri quindi rinuncia al tuo te stesso questo qui dice avverrà nel frattempo c'era Marx contemporaneo che diceva avverrà la rivoluzione ecco Dostoevsky che ignora volutamente Marx benché sapesse bene il tedesco dice la rivoluzione avverrà a suo tempo avverrà che la gente perderà l'io finalmente quando ci sarà un nuovo stadio evolutivo non una rivoluzione una evoluzione nessuno avrà più l'io tutti saranno liberi dal proprio egoismo personale e tutti guarderanno a se stessi come un intralcio alla vita e guarderanno agli altri come l'unico soggetto della loro vita ecco questa qui è una teoria che sì c'è in qualche profeta Gesù incluso però nella religione non c'è la religione ti obbliga a concentrarti molto sul tuo io nella confessione nel problema della tua salvezza sai una persona religiosa è molto egoista vuole farsi la strada la carriera per il paradiso per sé innanzitutto non vuole rimetterci se si comporta bene con gli altri perché c'è il tornaconto religioso ecco Dostoevsky dice no questo è sbagliato che tornaconto così non funziona mai niente ogni volta che parla in forma narrativa distrugge qualcosa che per gli altri è fondamentale poi vabbè morto lui nel 1881 pochi anni dopo anche Dostoevsky comincia a fare lo stesso solo in forma molto nobiliare ma poi ne parleremo in forma molto nobiliare molto maestosa molto sistematica anche Dostoevsky comincia a menare colpi terribili sulle certezze però con un pudore una discrezione che Dostoevsky assolutamente non aveva ecco a proposito di pudore discrezione qual è in maniera indiscreta lo chiedo andando un po' dentro il romanzo questo e anche gli altri se vogliamo la la visione di Dostoevsky riguardo alla Russia cioè la visione politica e filosofica di Dostoevsky l'ha anticipato con i riferimenti a queste anticipazioni intuitive del futuro però diciamo Dostoevsky era un uomo di destra però aveva intuizioni come abbiamo detto iper di sinistra ma al tempo stesso aveva una visione filosofica e politica del suo popolo della Russia lui era profondamente russo ecco qual è la come si può inquadrare in questo in questo senso Dostoevsky ecco bisogna intendersi bene profondamente russo non è come dire profondamente sardo profondamente napoletano un'altra cosa perché la Sardegna esiste Napoli esiste la Russia no è diverso cioè manca riferimento concreto quando uno è profondamente russo ha la caratteristica di appartenere a qualcosa che non esiste ancora che non è mai esistita in realtà la Russia dei profondamente russi Dostoevsky un po' lo sapeva e lui stesso si fa il verso a se stesso nell'idiota a un certo punto c'è il protagonista che è una specie di Gesù epilettico che fa un discorso ispirato in un salotto e parte in quarta si lascia prendere parlando della Russia come della maestra dell'umanità della e poi parlando da una spinta a un vaso che cade e si sente goffo è un attacco epilettico ecco perfetta come inquadratura del nazionalismo russo Dostoevsky Dostoevsky sapeva benissimo che quando parlava della Russia da nazionalista russo stava mentendo ma lo sapeva benissimo stava esagerando perché la Russia di Dostoevsky è un'idea non è la Russia che lui vedeva intorno non è mai stata o se lo è la Russia che lui vedeva intorno non sapeva di essere quella Russia lì Dostoevsky spera che a un certo punto nel vuoto da post-esplosione nucleare che è il risultato della sua critica all'Europa inclusa la Russia ci sia un punto di riferimento questo punto di riferimento lo immagina che debba essere un qualche popolo questo qualche popolo dice la Russia ma non la Russia che c'è la Russia promessa Dostoevsky per esempio ecco nell'atteggiamento di Dostoevsky sugli ebrei si vede questa cosa per Dostoevsky come tantissimi russi è nervosito dagli ebrei no non è razzista non è razzista è nervosito diciamo cioè l'ebreo dà fastidio ma anche a Dickens stava fastidio cioè se uno legge Oliver Twist Fagin è un ebreo il cattivo è un ebreo e l'ebreo di Dickens è proprio orrendo anche a Shakespeare un po' dà fastidio degli ebrei mercanti di Venezia Dostoevsky dà fastidio degli ebrei per invidia a differenza che gli altri perché dice quelli lì la loro terra promessa ce l'hanno da migliaia di anni noi dovremmo essere come loro mi fa venire un nervoso dice Dostoevsky vedere questi qui hanno già capito come stanno le cose che la patria non è nel passato ma nel futuro e loro lo capiscono e noi no cosa abbiamo noi di meno di loro quindi è un raro caso di antisemitismo per invidia poi naturalmente quando l'accusano di essere antisemita lui ha sempre sostenuto che non era vero che lui ammira il popolo ebraico eccetera eccetera però insomma in una serie di suoi articoli soprattutto l'ebreo è il vampiro della popolazione russa è quello che ci guadagna sulla misera degli altri ma di fondo c'è l'invidia la Russia di Dostoevsky non esiste ma un poeta del tempo di Dostoevsky lo diceva bene che un poeta si chiama peccato che in italiano non è melodioso come il russo dunque il russo è che vuol dire la Russia non si capisce con la mente non si può misurare con un metro normale è una cosa che sta per conto suo la Russia della Russia si può soltanto credere perché non c'è è come Dio non lo vedi questo qui Tiuchev che era un diplomatico tra l'altro perfetto nelle sue poesie è passato la storia tutti in Russia sanno tutti in Russia conoscono Tiuchev che dice la Russia non si capisce con la mente non si può neanche toccare la Russia quello che si intende quello che un russo intende con Russia non si può neanche toccare non si può vedere ci si può solo credere che ci sarà è un un nazionalismo messianico diciamo questo si può chiamare così cioè non è un come da noi il nazionalismo noi siamo abituati a Mussolini italiani popolo di eroi eccetera eccetera per lui Mussolini evidentemente voleva far credere di ritenere gli italiani già esistenti un popolo di eroi oppure Hitler che dice i tedeschi sono i tedeschi di adesso i suoi contemporanei sono gli esseri migliori dell'umanità o gli inglesi che il razzismo inglese è famoso noi siamo quelli che non si discutono come dice Lawrence dice ai francesi piace essere imitati agli inglesi dai nervi perché se uno vuole imitare un inglese un inglese dice ma che cosa vuoi imitare come puoi tu di un'altra nazione imitare noi è assurdo ecco il nazionalismo industrieschi è mica i russi di adesso sto parlando no quelli che verranno in un altro mondo io credo in quelli lì certo si entra dentro una giostra quando sali su una giostra la giostra gira alla sua alla sua forza di gravità Dostoevsky la sua forza di gravità per entrarci dentro uno ci entra dentro per un po' saluta tutti gli altri poi lo imitano in tanti per esempio il diavolo di Dostoevsky compare tale quale in Thomas Mann nel Dr. Faustus proprio rifatto uguale seduto tranquillo che parla con il protagonista che ha la febbre cerebrale ecco però quello che stupisce Dostoevsky è la compattezza del suo talento proprio come Van Gogh o come Collodi Collodi è più furbo non è più furbo perché si dissimula Collodi disprezza il suo tempo per cui nasconde il suo romanzo Pinocchio che sé che è una cosa sensazionale lo mette apposta come se fosse letteratura per bambini perché odia i suoi contemporanei che lo odiano che l'hanno ricambiato no? 10 odi noi ti compriamo il libro Van Gogh invece generosissimo dice vi dico tutto di me vi dico tutto di me perché non mi capite perché non mi capite Dostoevsky dice adesso io non vi dico niente di me pochissimo poca roba io vi sto presentando un mondo intero in cui tu entri quando ci entri ci resti dentro per tanto tempo perché perché ti porta non te lo dimentichi più non è il mondo della vita normale quello vi faccio vedere io è tutto assurdo ma di un assurdo così paranoico che sta su bene paranoico nel senso migliore del termine che sta su bene è un paramondo paramondo in cui tu vedi tutta una serie di cose di abissi che nel mondo normale vengono nascosti poi ti faccio vedere per esempio una delle scene tipiche di Dostoevsky è riunione di persone tutti quanti chiacchierano amabilmente eccetera eccetera c'è qualcuno da corteggiare di solito la persona di casa e a un certo punto l'essere più meschino di tutti dice signori vi propongo un gioco raccontiamo tutti la nostra peggiore azione e all'inizio si dice no 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 ma io la racconterei la mia e cominciano tutti a raccontare la loro azione scoprendo nel loro aspetto di benestanti delle voragini degli abissi di antietica e di libertà che uno guarda con con attrazione poi c'è un'altra cosa un altro dettaglio che è interessante mi vengono in mente tanti però dice gli dava così fastidio quella persona con i suoi tic che non poteva far a meno di guardarla che è tipico di Dostoevsky come scena cioè mi fa schifo questo che fa così mi dà fastidio e io sono lì che lo guardo fisso per soffrire di più ecco ecco ci avviamo alla fine con le ultime due domande e una me l'ha ispirata a uno dei nostri ascoltatori che scrive lo leggo testualmente se cinque anni fa mi avessero detto che in futuro avrei letto Tostoiessi e li avrei presi a pernacchie bene invece lo legge allora io quello che volevo chiedere come penultima domanda è di provare alla fine di questa nostra serata che è iniziata in maniera difficoltosa ma che sta andando avanti in maniera molto bella e molto piacevole per me e credo anche per chi ci ascolta quali sono le ragioni per cui un uomo nel 2022 oramai deve leggere Fiotr Dostoi ah beh nel 2022 la risposta è facilissima perché abbiamo sbagliato strada abbiamo sbagliato clamorosamente strada specialmente da qualche mese a questa parte da un paio d'anni a questa parte la strada intrapresa è proprio è fuori 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 da tutto cioè non era quella giusta non bisogna andare di là uno sta andando a Firenze si ritrova a a a Campobasso qualcosa non funziona io volevo andare a Firenze non che Campobasso è una bellissima città però volevo andare a Firenze ecco noi siamo in una direzione completamente sballata tra un po' ci accorgeremo di essere totalmente fuori fuori fase di aver sbagliato ma tantissimo ma ma non come i nazisti che hanno sbagliato con delle ragioni noi che ideologiche folli ma espresse in una serie di dichiarazioni chiare vieni di qua e facciamo questo ammazziamo gli ebrei conquistiamo il mondo asseriamo tutti dicono ci sto poi si chiedono oh scuso ho sbagliato no no adesso c'è l'errore non è dichiarato in anticipo è un errore per inerzia per una serie di stupidità avvenute dopo la seconda guerra mondiale e siamo in una direzione di quella della sbagliata questo è brutto ma è anche molto bello perché a un certo punto quando ci accorgeremo di essere in una direzione sbagliata saremo totalmente liberi perché saremo così lontani dalle direzioni giuste e irrecuperabili da dover trovare direzioni nuove per conto nostro e ci accorgeremo che tutto quello che doveva aiutarci a scegliere la direzione giusta non ha fatto il suo dovere autorità religione filosofia etica morale latitante è stato un errore un errore grosso con tanti complici di questo errore a questo punto un grande distruttore come Dostoevsky torna utile perché dice adesso per smantellare quelli che ci hanno fregato io un po' di Dostoevsky me lo leggo Kafka andrebbe bene ma è rassegnato Kafka dice non si può fare niente Dostoevsky dice no no si può si può adesso gli facciamo un culo così a questi qua che ci hanno incarnato fino adesso quindi Dostoevsky benché se fosse qui presente Dostoevsky direbbe no cari signori io sono di destra ma direbbe il falso direbbe il falso questo è un buon motivo per leggere Dostoevsky oggi come esercizio per tra due o tre anni sarà utilissimo ecco meglio arrivare preparati ecco per arrivare preparati alla puntata del 9 di dicembre che riguarderà invece Tolstoi io volevo chiederle come ultima domanda di come dire non fare un trailer di Tolstoi ma di riprendere un po' il tema che ha accennato in alcune sue risposte del rapporto tra Dostoevsky e Tolstoi e in qualche maniera provare a chiarire il ponte che c'è tra questi due immensi autori diversi ma sicuramente imparentati mi sembra di capire specialmente l'ultimo Tolstoi rispetto al primo no anche anche Guerra e Pace anche Guerra e Pace già in Guerra e Pace lui pesta i piedi eh ha già cominciato a cazzarsi un po' dunque il punto di contatto è un concetto che non è noto da noi è noto solamente oltre l'elba diciamo oltre il fiume non l'isola ciume è l'intelligenza dunque intelligenza la parola di origine tedesca di origine polacca in origine indicava i colti della Polonia da cui puoi prendere la classe dirigente in Russia che i russi fregano quasi tutto agli altri eh ai popoli circostanti la camicia russa è indiana una serie di parole russe importanti sono turche una serie di parole russe importanti sono tartare il samovar è cinese la matryoshka è cinese la marx il marxismo è tedesco non è russo insomma rubacchiano e hanno preso anche la parola intelligenza la parola intelligenza indica una realtà che da noi non c'è è una piccola casta però non privilegiata la casta non privilegiata ed è una casta in cui si può entrare da qualsiasi strato sociale anche un contadino può diventare intelligent russo Tolstoi era intelligent di origine nobiliare Gorky era intelligente di origine contadino cos'è l'intelligenza l'intelligenza è le persone pensanti però le persone non le persone pensanti che poi fanno avanti il lavoro le persone pensanti basta le persone che si fanno le domande e si rispondono o come giornalisti o come filosofi pochissimi o come scienziati audaci più numerosi o come scrittori ecco e l'intelligenza in Russia ha un fortissimo senso di responsabilità cioè quando le cose vanno male l'intelligenza russa dice ah che mi ha sbagliato e lo riconoscono e dopo decenni che sbagliano secoli che sbagliano hanno imparato anche a non sbagliare e hanno fatto questo corporativismo ha cominciato nel 1820 già ma anche prima e sentono responsabili del del modo in cui la gente pensa intorno a loro e sanno che la gente lo sa e che tutti li leggono per sapere come bene pensare sono quelli che sono informati su come va l'estero sai per la Russia è importante l'estero perché la Russia è una nazione europea da poco dalla fine del settecento e guarda dalla finestra l'Europa e vede l'Europa dove va e dice ma mica bene l'Europa noi sappiamo loro non capiscono e gli intelligenti l'intelligenza è quella che dice va a vedere l'Europa tutti fanno il viaggio in Europa vedono che non va torna indietro e dice non facciamo così facciamo diversamente Tolstoi e Dostoevsky sono due forti intelligenti molto impegnati tutti e due si sentono investiti di una specie di dignità sacerdotale sai il Papa che dice ecco molto simile all'intelligenza per esempio molto in minore molto in forma dilettantesca il Papa attuale che ogni tanto fa riferimenti alla stampa adesso il Papa attuale fa pochi discorsi di carattere religioso sembra che non sia neanche cattolico da come parla però parla tantissimo del telegiornale ed ha delle opinioni da ascoltatore del telegiornale sui migranti sulle donne eccetera eccetera opinioni che tutti quanti sanno ecco tu immagina una persona che non segue il telegiornale ma segue tutta la letteratura mondiale la filosofia mondiale l'economia eccetera che dà delle opinioni profonde molto più elaborate di quelle del Papa attuale e le dà in modo da attirare tantissimo la gente a leggerle questa è l'intelligenza russa Tostoi e Dostoevsky sono i due grandissimi dell'intelligenza russa ci sono stati tanti altri però loro sono i due colossi uno che dice ti porto in questa direzione alla scoperta della bellezza di distruggere le tue certezze e l'altro che dice ti porto in questa direzione alla scoperta della bellezza di distruggere le tue certezze dicono la stessa cosa identica ognuno a modo suo è solo uno spettacolo uno che legge Dostoevsky e passa i suoi 15 anni su Dostoevsky con grandissimo piacere poi lo aspettano un bel 15 anni di Dostoi con altrettanto piacere e non saprà mai chi gli piace di più dunque Igor grazie mi sembra che sia un finale assolutamente adeguato e soprattutto come dire è il ponte verso l'appuntamento del 9 di dicembre che come dire segnalo già adesso a chi ci sta seguendo e che comunque per un modo poi di dare ulteriori informazioni quando sarà il momento e nel frattempo io ringrazio Igor Sibaldi di questa bellissima serata iniziata con difficoltà ma finita nel migliore dei modi possibili saluto i nostri tantissimi